Rimini, scuole, a Rimini. No, a Riccione. Io sono nato a Rimini in clinica perché quella volta non ci nasceva, perché avevo un parto un po' difficile. E poi dopo vivo a Riccione, cresco a Riccione, faccio le elementari. Promosso sempre. Promosso sempre. Medie alle Manfroni, che erano le medie di Riccione. Tu da quando avevi 11 anni però cominci a lavorare. Sì. Cosa fai? Allora, io nasco alla pensione Cinzia di Riccione, che era una piccola pensione con zero stelle. Non avevamo... Non ci avevano dato la stella. Le stelle, vabbè. E avevamo una capienza di 60-70 clienti, perché di più non ce ne stavano. Avevamo 12 camere, quindi facevamo fatica a... 60-70, ha detto. Mio papo li ramassava i clienti col muletto, li metteva di coltello, tipo tetri. scusi, uno sopra l'altro. I letti di castello, dei letti di castelli, così. E comincio a lavorare, a fare il cameriere. Infatti, quando oggi mi chiedono, tu dove hai imparato a fare la scuola? La sala della pensione Cinzia. Da mio babbo, mio babbo, un grande spara castello. Mio babbo è un fenomeno. Io a confronto mio babbo sono introverso, quindi vi dà l'idea che... e soprattutto mio babbo, da lui ho preso questa cosa di parlare senza dire niente. Perché io, imitando mio babbo, mio babbo non ha mai finito un discorso. Proprio lui era coerente, simulava il sistema Windows, apriva le finestre a cazzo, pop-up. Mio babbo faceva veramente ridere. Un antesignano, proprio. Eh, sì, sì. Mio babbo aveva, allora, lo chiamavano Macario, che era un comico degli anni del dopoguerra, bravissimo. Gli assomigliava perché aveva questo modo un po' nevrotico di... raccontava barzelletti. Io mi ricordo che lui raccontava barzelletti ai tedeschi. Allora, mio babbo... La clientela era tedesca quegli anni, soprattutto giugno e settembre, però era tedesca. Mio babbo riusciva a raccontare le barzellette in tedesco, in dialetto. Cioè lui sapeva, non so, c'è uno di Francoforte che dice ho uno di Monaco. E come noi diciamo... Roma e Napoli. Era passesco, passesco, passesco. Lui aveva una... era uno zingaro, non era capace... Sapeva il tedesco come lo sanno i bambini in età prescolare, quindi... Cioè, un bambino di cinque anni sa l'italiano perfettamente, sa anche... Però non sa leggere, il babbo non sapeva, non sa leggere e scrivere. E sapeva anche l'inglese, perché si era immigrato in Australia nel 52, nel 56, quindi aveva imparato l'inglese e... Quando nel primo anno che aprì la pensione, 1957, lui raccontava che arrivò un pullman di tedeschi. Non era ancora pronta la pensione di Cinzia, non era pronta. Un pullman, immaginatevi, 50, 60 persone. Allora uscì questo signore che si chiamava Ingo, me lo ricordo ancora, della Reisbureau, agenzia viaggi, e gli disse, sto cercando una pensioncina per tenere questi tedeschi per un mese. Quella volta stavano un mese. Però voglio metterli in un posto dove c'è un titolare che sa il tedesco. Lei sa il tedesco, dice mio babbo. Io? Non sapevo una parola. Non sapevo una parola. Però così, ignorante, romagnolo, sale sul pullman e dice, in inglese, lui sapeva l'inglese perché era stato in Australia quattro anni prima, dice, chi di voi sa l'inglese? Due alzano la mano, voi due. Allora, mangiare, bere, dormire, lavare, stirare a gratis. Mi fate la traduzione e in un mese mi imparate il tedesco. E così ha fatto. Pensa che genio. Cioè, uno, cioè, è passaggio, capito? I napoletani sono veramente timidi. Nulla è confronto. Confronto del mio babbo. Beh, fantastico. Comunque, tu cominci a lavorare e fare questa cosa qua. Tra l'altro qui, guarda, è preso da Wikipedia. Il babbo Luciano, showman della sala. Ah, sì, sì. Cioè, lui era, era, lui girava in sala così. Allora, Marisa! Ah, che era, così. Faceva una confusione. Che è quella che lavorava, la Marisa. Eh, sì. E invece era la mia mamma. Lui alzava un polverone che era una roba, faceva una confusione mentale. Il mio babbo era pazzesco. E poi li faceva impazzire perché il mio babbo, la tecnica di mio babbo era un ibis. Ibis. Cioè, lui arrivava, c'era il primo, il secondo, poi c'era un ibis. Quando c'erano i tedeschi, allora i tedeschi piacevano da matti la cipolla. Il mio babbo tagliava la cipolla con la fettatrice, sottile, sottile, con la maschera da sub, perché logicamente ti immaginati il mio babbo col boccaglio che zin, 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 tagliava. Per non piangere. Per non piangere, perché tagliare tutte le cipolle per 60, 60 persone. E poi passava con questa cipolla, che aveva un affrore che ti puoi immaginare, però per i tedeschi era il massimo, perché finito di mangiare, capito, dopo il caffè, dopo la cipolla, la cipolla. Dopo il dolce, la cipolla. Zwiebel, zwiebel, cipolla, zwiebel. Ah, zo, zwiebel, wunderbar. Allora, però poi, devi fare l'università. Allora, finisco il liceo, finisco il liceo, liceo volta di Riccione. Non sapevo cosa fare e un mio amico mi disse io ho un posto a Bologna, un posto letto, in via indipendenza, io ero già stato un po' a vedere Bologna, era bello, mi piaceva, da Riccione, dai. Allora mi disse, ho questo posto letto, faccio giurisprudenza, e io dico, oh, io non so che cazzo fare, faccio giurisprudenza anch'io. Faccio giurisprudenza e ho fatto giurisprudenza. D'inverno studiando, d'estate lavorando, quindi davo... Pensione cinzia. Pensione cinzia, davo il primo esame a maggio, poi tornavo giù. Io sono sempre stato uno da vita in comitiva, mi piace. Se penso a una malattia, penso alla solitudine. Penso che sia la cosa più... Io sono uno da barattere, io rompo i coglioni a tutti. È vero, è vero. Io c'ho un amico, Pizzocchi, sono molto amico. Aspetta, facciamolo entrare, dai. No, ma sai... Duiglio! Duiglio Pizzocchi! Ma io non lo sapevo, l'ho citato... Così, così. Ciao. Buonasera, ciao Gianca. Ciao. 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 Se sapevo così, venivamo sui cinema. Avremmo potuto anche farlo. Che bello vederti. È un po' che non ci vediamo più. Eh sì. Ti sei tinto i capelli? Cos'è? Sì, no, sto facendo un film. Pizzocchi sta facendo un film. Sì, sul pittore Antonio... Ve lo ricordate, Pizzocchi? Fa' mo', fa' mo'. Fa' mo'. Guarda che io... Non ormette bottassi. Ho fatto un video che me l'hanno preso a tradimento al ponte della Bionda Bologna con Cactus, quello con i capelli lunghi, il frichettone. Come no? Che ha fatto 2 milioni, 200 mila visualizzazioni su YouTube. Davvero? A Taldic. Sai quello che dice? Eh sì, bellissimo. Molto ridere, molto, molto ridere. Questo ti ha cambiato la vita, queste 2 milioni di visualizzazioni? No. Per niente, proprio. No, no, vabbè, però è una son soddisfazione, diciamo. No, me l'han detto, io non lo sapevo neanche. Mi sento io qua? Sì. Ah, grazie. Allora, Duilio è un grande comico, dovete saperlo. Tra l'altro lui sa, perché io, prima di fare questa intervista, ho parlato con lui al telefono e gli ho già chiesto di partecipare a Zero It Time, perché secondo me lui merita di farsi vedere, far vedere quello di cui è capace. Stocchi era a Zeli nel 2001. Prima che io fossi, lui fu. Sì, sì. Si dice. E tra l'altro è successo questo nella realtà dei fatti. Io c'ero molto prima di Zeli, che ci sarò ancora molto dopo. Allora, lui è venuto qui con Giacobazzi, praticamente. Sì. Abbiamo preso Giacobazzi poi, vabbè. No, ma io me lo ricordo benissimo, ho detto a Bodo, guarda, c'è un mio amico qua, molto bravo, vengo poi a vederlo un'altra sera. Siamo andati a fare la gita alle isole Svalbard, abbiamo fatto questa cosa, una cosa di trasmissione che... Sgrilli, Migone... Sgrilli, no, Migone no, Sgrilli, Marco Dei Pali, Aldo Drudi e lui. Abbiamo... Ma io non so perché mi è capitata una figa. Ma cosa vuoi mai fare? Il cazzo è diverso. Allora, andiamo, andiamo, vieni, 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 vieni. Allora, andiamo. L'isole Svalbard, l'isole Svalbard è un posto meraviglioso, è l'ultimo posto abitato prima del Polo Nord. Sì. E c'è sei mesi la luce. Logicamente, quando tu vai in un albergo e sedi sei mesi la luce, le tapparelle ci sono? No! Non ci sono le tapparelle. No, ce la tendina. Non ci sono neanche le tende. C'è quella della cucina, trasparente, con i colorini rosa. Ok, siamo in camera, io e lui. Una camera con due lettini, i lettini che dovevi dormire, coltello, hai capito? Se stavi di schiena non ci stavi. Se indietro... Allora, Pistocchi non è che russa. No! È una roba! Quindi immaginatevi, noi siamo stati tre giorni alla Svalbard. Mai più. Mai più. Con la luce che non si ricorda. Lui che russava, la sera usciamo, siamo andati a mangiare al ristorante, usciamo dal ristorante, quanto c'era? Meno 20. Meno 25. Meno 25. La mattina andiamo a fare la gita con la motoslitta, io guido e lui sta dietro. Ci dicono una cosa, l'unica cosa importante veramente, quando tu guidi che giri a sinistra ti devi buttare a destra. No, siccome io avrei potuto, allora, io avrei potuto avere la mia motoslitta quella sera, però purtroppo in Italia mi avevano ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Di conseguenza non avevo... Lo so, non devi sapere anche le Svalbard. Non avevo la patente, per cui hanno detto ti fai caricare da qualcuno. Io, logicamente. Due errori in uno, diciamo. Allora, la motoslitta è una roba che pesa, io penso, 6 tonnellate, cioè è una roba pesantissima. Un mostro pesantissimo. Un mostro pesantissimo. Hai cingoli dietro, gli slitti davanti. Ci dicono, se tu giri a destra, vi dovete buttare... Tutti e due. No, a destra! Ancora non l'ha capito! Non l'ha ancora capito! Non l'ha ancora capito! Ah no? Hai capito? Lo stato di ebbrezza è continuato. Alla prima curva ci siamo ribaltati. Ma per fortuna che ci avevano detto tenete le braccia e le ginocchia dentro, una roba che uno appoggia la mano, cioè ti rimane la manina lì. Ecco, questo è Pissocchi, un coglione... Non ci siamo fatti rimanere, ma... Io sono una persona simpice, mi ha portato, per l'amore di Dio, devo ringraziarlo in giro per il mondo, in posti dove io di mio non sarei mai andato, perché io sarei uno stanziale e mi ha portato a vedere, per esempio, il museo di arte moderna a Londra. Lui di Londra, come si chiama? Tate. Tate Modern, esatto. Tate Modern. Piuttosto non andiamo alla National Gallery, che fuori c'è un banchetto che fa gli hot dog. Noi cercavamo di svilupparti. Mi porto dentro un posto, c'è un quadro, due metri per due, tutto griso, titolo Grey. C'è un altro che c'è, un pisciatoio, per esempio, rovesciato con la firma Fontein. Dico, ma se ti tira il culo... Se ti tira il culo, traduccelo, ti tira il culo, questo che è il modo di dire... Il modo di dire bolognese. Allora, io per dimostrargli che erano puttanate, c'era uno di quei due tubi con la corda rossa che delimitava una porta che portava chissà dove, di là, dove c'era. Allora io ho, senza che nessuno mi notasse, preso un estintore, ci ho messo sopra il berrettino da baseball, ho detto, due di qua, due di là, mettiamoci a guardarlo. Dopo dieci minuti c'erano due scolaresche... È vero, è vero? È vero. Quindi, è un rapporto un po'... Però ci vogliamo... Facciamo che Duilio adesso ci saluta per un momento, poi lo rivediamo dopo, che abbiamo un'altra cosina da fare. Più dispiacere che ho. Duilio Pizzocchi. Grande Duilio! Grazie! 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 Grazie.